buon pomeriggio a tutti e bentornati in un nuovo video del gobbo toscano tra parentesi on the road siamo sempre qua ora per queste feste dobbiamo essere on the road perché perché stiamo preparando tante cose stiamo preparando tante cose innanzitutto vi ricordo di lasciare un like al video condividete il più possibile iscrivetevi al canale attivate la campanella e poi commentate dicendomi la vostra mi raccomando perché è molto molto importante capito ha capito questo è un video importantissimo allora parliamo di una cosa che circola nelle ultime ore ma non viene data un po dappertutto viene data solo su alcuni canali confidenziali viene data su alcuni siti alcuni tabloid un po più particolari ma la bomba sta nel fatto che andrea agnelli parrebbe intenzionato e qui ci sono riscontri anche a riguardo mi sono appena sentito a livello di messaggistica con colleghi e con info del genere che mi danno le stesse informazioni e andrea agnelli parrebbe pronto a candidarsi con un ruolo importantissimo nella uefa come presidente uefa attenzione attenzione al discapito del suo vecchio amico ceferin che poi ci sono stati dei dissidi delle incongruenze e le i due soggetti si sono schiaffeggiati simbolicamente da una parte e dall'altra ecco cosa succederebbe in caso che andrea agnelli andasse a candidarsi sicuramente avrebbe dalla sua parte tanta più importanza mediatica perché dopo la vittoria del discorso superlega alla corte europea sulla uefa ceferin infantino gravina e tutti i soggetti no di fifa uefa hanno perso tanta credibilità quindi un volto nuovo è un volto che ci aveva visto lungo come abbiamo visto per quanto riguarda la superlega secondo me potrebbe essere una cosa molto molto buona un po di quella come si si chiamano quell'aria fresca che ci vuole in determinati momenti di cambiamento perché la la decisione della corte europea è una decisione epocale cioè siamo da sempre abituati uefa fifa e basta e ora può poi si farà o no è da vedere ma c'è anche un opzione b una superlega che poi potrebbe se se dovesse essere messa in atto potrebbe diventare anche l'opzione a perché tutto dipende da da quanti soldi gireranno e pare che nella superlega ne dovrebbe girare tanti 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 ma a differenza verrebbero distribuiti per i vari club partecipanti e non tenuti da uefa e fifa non si sa per quale cosa no per quale con quale scopo ovviamente per ingrassare gli esponenti no di tali competizioni detto questo io ad oggi non so se poi dovesse essere eletto mettiamo sempre il condizionale andrea agnelli come presidente uefa ma sicuramente sarebbe un bello scacco matto a il secondo dopo il discorso superlega a ceferin e compagnia qui però salta fuori poi un'altra cosa importante un'altra cosa importante un ragionamento da dover fare il buon andrea ha da poco ceduto le proprie azioni al cugino elkan della juventus prendendo circa 300 milioni di euro questi 300 milioni di euro potranno essere sicuramente reinvestiti per una sua campagna mediatica per avere ancora più come si dice appeal verso i votanti per decidere il prossimo presidente della uefa e in più potrebbe crearsi attorno a lui una figura importante no si potrebbe creare questa figura questo simbolo del nuovo corso del calcio e quindi ridare credibilità uefa e fifa e andrea agnelli potrebbe in un secondo momento che da vedere prepotentemente riavventarsi sulla juventus per cercare di far capire al cugino che non è roba sua non è roba sua nel senso che sua è di proprietà ma non è pane per i suoi denti gestire una società di calcio come la mi interessa ben poco dello stile e della storia della nostra amata juventus queste sono tutte cose che poi saranno in divenire ma la cosa importante è sottolineare che andrea agnelli si candida come presidente della uefa cioè è una roba che ha dell'incredibile da agnelli sparito agnelli chissà e poi e poi quello che succederà se succederà sarà tutto da vedere ma sicuramente saranno cose e cambiamenti epocali epocali cambiamo per un attimo discorso giriamo un attimino pagina e torniamo a parlare di quella che è la situazione ad oggi della juventus la juventus stiamo vedendo che a livello di calcio mercato è un po un po messa non male ma è un po titubante no stanno uscendo tante voci da una parte tante che smentiscono tali voci quindi si parla di acquisti in prospettiva poi no di prestiti secchi perché poi prossimo anno a un bel allenatore no allora non prendiamo nessuno ecco fermi io ripeto cerco sempre di farvi chiarezza in modo il più obiettivo possibile perché cerchiamo di comunicare qualcosa che poi possa essere visto rivisto e condiviso e poi ovviamente uno può condividere o non condividere il pensiero però cerchiamo di farci sempre il ragionamento ecco a mio parere in questo momento la juventus è in una fase di completo caos ma completo caos per quale motivo è un caos apparente non è un caos reale è un caos di facciata perché la juventus ha le idee chiare la nuova dirigenza che si sta formando alle idee chiare sia su allenatore che sui profili dei giocatori che dovranno potranno vestire la casacca della juventus nella prossima stagione quindi credo che gennaio come ripeto in ogni video e questo è per darvi un aggiornamento sempre in più gennaio sarà più un mercato di vendita di cessioni per accumulare soldi in più a quelli della ricapitalizzazione che in parte serviranno per far fronte alle mancate entrate dalla champions league e in parte potranno essere reinvestite sul calcio mercato ma l'investimento grosso sarà da fare a livello di allenatore come sappiamo ormai tutti poi ci vorranno quei tre quattro innesti importanti alcuni di qualità altri in prospettiva che serviranno per far fare il salto di qualità alla juventus la juventus quest'anno deve fondamentalmente entrare nelle prime quattro prendere il budget oltre a quello delle cessioni di gennaio e poi a giugno del prossimo anno cambiare allenatore quei due tre quattro giocatori e partecipare a una champions league ovviamente non diamo per scontato di fare qualcosa ma dobbiamo almeno rientrare nel calcio che conta ok poi per quanto riguarda la superlega lì ci saranno aggiornamenti vediamo se si farà chi accederà chi vorrà far parte della superlega ma questi sono altri discorsi adesso parliamo dell'immediato e l'immediato mi dice che la juventus non farà grandi movimenti nel mercato invernale di gennaio ma semplicemente si preoccuperà di fare il più il bottino meglio possibile fare più soldi possibili per poi reinvestire nella prossima stagione credo che qualcuno arriverà a gennaio ma bisogna vedere l'unico credo in questo momento che potrebbe arrivare di nomi un po più altisonanti è il proprio copminers nel nel discorso di healing ceduto in premier e sulle cedute in premier pagamento come ho detto nel video precedente dilazionato 20 milioni subito a gennaio 10 a giugno 2024 e gli ultimi 10 nel giugno 2025 spero che si abbassi un po le richieste perché 40 milioni per copminers giocatore per carità tanto tanto forte ma gioca nell'atalanta non vorrei ritrovarmi con un altro vlaovic 2.0 solo a centrocampo ecco prima di tutto bisogna cambiare l'allenatore e cambiare il modo di interpretare il calcio negli 11 in campo poi dopo possiamo mettere nello scacchiere le giuste pedine che l'allenatore ovviamente vuole portare con sé vi ringrazio ancora ragazzi like iscrizione condivisione commenti e spammatelo dappertutto il video fino alla fine forza io vedo al gobo toscano e aspettiamo il natale a gloria dai felice periodo di festa per tutti oggi è il 22 manca tre giorni a natale già fra due c'è la vigilia ma già domani è partita è il 23 ma gioca la nostra juventus a frosinone mi raccomando tutti attifarla ma non guardatela nelle pay tv ricordatevelo sempre fino alla fine dal gobo toscano ciao